La protagonista del video musicale della canzone intitolata Despacito è davvero una bellissima ragazza, davvero molto sexy, con un curriculum, ma un vero e proprio curriculum di tutto rispetto. Infatti la ragazza ha 29 anni di età, è di Porto Rico, si chiama Zuleika Rivera e nel 2006 vinse il titolo di Miss Universo e pensate che è anche una famosa attrice molto nota all'interno dei paesi dell'America Latina. I paesi dell'America Latina, vi ricordo che sono quelli dell'America del Sud, quindi parliamo di appunto l'America Meridionale. Ripeto, si chiama Zuleika Rivera. Bellissima, affascinante, grazie alla sua bellezza, ma anche però alla musica leggiata, la piacevole, frizzante e vivace, questa canzone è diventata virale su internet e possiamo dire, ascoltando la radio che viene trasmessa, davvero a più non posso. E merito anche, non solo del timbro della canzone, quindi della sua musica piacevole, ripeto, frizzante e aggraziata, anche però della bella Zuleika, che dal suo fascino e dalla sua immensa bellezza, secondo me, è riuscita a dare un aiuto maggiore a far in modo che il videoclip, quindi il video ufficiale della canzone, ottenesse un successo pazzesco, cosa che poi si è verificata. Grazie per l'ascolto, il video termina qua, un saluto e a presto.